Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, questa sera allo Stadio Olimpico a partire dalle 20.45 si gioca la partita Roma-Cagliari, previsto il consueto piano di viabilità e sosta attorno all'area del Foro Italico. L'evento si può raggiungere con il tram 2 che parte da Piazzale Flaminio dove c'è la corrispondenza con la stazione Flaminio della metro A e si può raggiungere l'area dello stadio anche con numerose linee di bus in arrivo dai diversi quartieri cittadini.